che stavolta San Gennaro si è voluto un poco, fa apriare un po' di più, però il sangue comincia a sciogliersi. Sì, ormai è sciolto. San Gennaro non tradisce mai, sino noi che qualche volta lo tradiamo, però vogliamo ringraziare il Signore che ancora una volta anche in questa occasione, con l'intercessione del nostro Santo Patrono, ha voluto mostrare a tutti noi la sua benevolenza, la sua misericordia e la sua amicizia. Siano resi grazie a Dio. Amen.